L'acquario è sicuramente un'eccellenza di Genova, il numero di turisti che lo visitano tutti gli anni ne la conferma. Si può fare qualcosa di più, certo che si può fare qualcosa di più, tant'è vero che non più tardi di tre giorni fa abbiamo accettato la donazione di Renzo Piano del blueprint che proprio da queste aree proseguirà fino alla fiera per dare finalmente al waterfront di questa città quella dignità e quella bellezza che merita una capitale del Mediterraneo come Genova. Quindi si può fare molto di più ma credo che l'acquario sia un punto d'eccellenza da cui partire da tenere in grande conto.